Grazie Marco, grazie all'Accademia delle Scienze che ha organizzato questo evento, questa festa. Per me è davvero un onore parteciparvi e lo farò con una riflessione sullo scienziato Aymaro Isola. Se siamo qui a festeggiare i 90 anni di Aymaro, Marco Filippi ce l'ha appena mostrato, è perché i suoi anni sono stati pieni di opere. E come vale un po' per i personaggi romantici, l'opera ha a che fare con la vita. La vita di Aymaro è stata lunga, densa, ricca di avvenimenti, di scelte, di scambi. Una vita ad altri tempi, verrebbe da dire. Una vita che ha dato all'uomo la possibilità di costituirsi e di autorappresentarsi come soggetto individuale. Un soggetto dotato di una propria irriducibile interiorità, a partire dalla quale rivolge il proprio sguardo verso il mondo esterno. Questa dimensione soggettiva, individuale, che nell'opera, che sia architettonica, artistica o testuale, prende le vesti di autorialità, questa dimensione soggettiva, dicevo, assume le vesti di autorialità, ha attraversato l'intera vita di Aymaro. Senza però diventare un fulcro autonomo. La presenza di questa dimensione dell'interiorità si è sempre posta in relazione alla presenza di una dimensione dell'alterità, del fuori da sé. Una dimensione che ha a che fare con il riconoscimento della realtà esterna e della responsabilità individuali che un rapporto con essa comporta. Coltivando così la propria individualità, Aymaro non ha mai smesso di porsi il problema del mondo e, come meno pomposamente di me, Aymaro dice spesso, non ha mai smesso di guardare fuori dalla finestra. Questo rapporto tra soggetto autore e mondo, costruito durante tutta l'esistenza, costituisce, io credo, la cifra principale della figura pubblica di Aymaro e al contempo costituisce anche, io credo, la ragione della sua irrimediabile inattualità oggi. Aymaro è nato in un mondo premoderno. Il progetto moderno ha vissuto le lacerazioni sociali ed esistenziali della guerra, di cui ci parlerà dopo lo storico Giovanni De Luna. Da architetto, anzi ancora da studente, come ci ricordava Marco Filippi, ha incontrato la retorica del progetto moderno nel suo momento di maggior successo, nel suo momento apicale. E da quella ha preso le distanze. Ha poi vissuto la crisi, se non la morte, di quel medesimo progetto, senza ballarci sopra, senza danze macrabre. E ha lavorato con una speranza caparbia per costruire le condizioni di nuove costruzioni di senso. Senso per l'architettura, senso per l'ambiente costruito, senso per il mondo a cui ha continuato a rivolgersi. Per chi come me ha passato parecchio tempo a lavorare con lui e soprattutto a osservare come lui lavora, la sua competenza di progettista ed intellettuale è stata certamente quella di saper ben calcolare la forza propulsiva delle promesse progettuali. In cosa consiste la forza delle promesse? Prova a spiegarmi con due esempi. Tanto si è scritto della programmatica modestia della sua opera costruita, del piacere di lavorare con sistemi costruttivi correnti, dell'attenzione per l'organizzazione della produzione edilizia, della ritrosia rispetto alla retorica della cosiddetta tecnologia avanzata, del dialogo con le tecniche coinvolte nel progetto, della rappresentazione del ruolo del progettista come operatore tra gli operatori, senza primazie a priori. Questa capacità di calcolare le implicazioni nel mondo delle culture tecniche, intese in senso lato, professionali, burocratiche, costruttive, ha sempre distinto Aymaro e con lui Roberto Gabetti e non potrebbe che essere così per chi ha professato l'architettura come conoscenza delle tecniche in primis, di tutte le tecniche. Per cui da un lato rileviamo una disposizione al riconoscimento della consistenza della realtà, ma tanto si è scritto anche della capacità di Aymaro di spiazzare le attese, di sfondare attraverso il progetto i confini di quanto già immaginato, di rivelare nuove verità attraverso il disegno dello spazio. In altre parole, tanto si è scritto della sua capacità di raccontare nuove storie, di spostare gli orizzonti a cui riferire alla narrazione di progetto. E di nuovo non potrebbe essere così per chi ha, con il piccolo edificio della bottega d'Erasmo, che ci ha fatto vedere Marco prima, e la sua lettera di accompagnamento a Casabella, messo in discussione i fondamenti tra etica e estetica su cui poggiava la convenzione del progetto moderno. O per chi ha aperto, con il disegno della collina di Ivrea, di nuovo citato da Marco, un nuovo capitolo del rapporto tra artificio e natura. Come si spiega allora questa disposizione alla considerazione della consistenza delle istanze della realtà concreta, sintetizzata nell'attenzione alle tecniche, e all'opposto questa deliberata inclinazione a mettere tutto in gioco, a rilanciare sempre su narrazioni più ampie? Io credo che Aymaro, come tutti i grandi architetti, sia stato in primis un grande stratega. Sia stato cioè capace di fare lungimiranti promesse progettuali a partire da valutazioni ben controllate delle situazioni in cui esse venivano lanciate. questa capacità di agire strategicamente è quello che rende efficaci gli architetti e che ha reso Aymaro un bravo architetto, un architetto produttore di effetti. Ma questa considerazione vale per tutti i bravi architetti, per tutti quelli che riescono ad allargare l'insieme delle implicazioni da tenere in conto nel progetto e a portare a complimento attraverso una promessa di progetto un'azione di trasformazione sullo spazio. Questa è la competenza strategica necessaria in ogni bravo architetto. Poi però c'è qualcos'altro, qualcosa in più, qualcosa che vale forse solo singolarmente e che riguarda la qualità delle istanze che Aymaro ha preso in considerazione quando definisce la propria strategia progettuale. qualcosa che riguarda come le istanze vengono prima considerate e poi trasfigurate nella promessa progettuale. Qualcosa che riguarda la forma specifica con cui Aymaro è stato ed è autore. E questo qualcosa io credo che sia come Aymaro abbia guardato e guardi le cose. come le guardi poeticamente. Poesia è un termine pericoloso per un architetto. Rischia di sottrarre l'azione del progetto dal dominio del dicibile e di relegarla ad una sorta di pensiero magico poetico dove dove si scioglie qualsiasi legame col mandato sociale che il progetto di architettura per costituzione ontologica ha ricevuto. Eppure poesia può essere il termine corretto se definiamo la pertinenza del suo campo d'azione che riguarda appunto la forma dello sguardo e non quello dell'azione. Il modo specifico di essere autore di Aymaro sta dunque io credo nella forma con cui lui guarda le cose del mondo nel modo in cui guarda poeticamente che non vuol dire che agisca poeticamente poeticamente abita l'uomo su questa terra si può dire citando Heidegger prima di lui Hölderlin quando non si sa come questo uomo agisca o non si sappia come descrivere la sua azione guardare poeticamente invece significa una cosa un poco più precisa significa guardare la realtà leggendo cose che altri non vedono o che vedono male o che vedono in modo confuso io ad esempio mi colloco tra questi ultimi guardare una foglia e vederne la metafora di una condizione esistenziale guardare un legno contorto e riconoscerne la figura di uno stato guardare un tetto e vederne la schiena di un drago guardando poeticamente Aymaro prende in considerazione le foglie il legno torto il tetto e li trasfigura per costruire la promessa con tutta la strategia di cui da bravo architetto è capace nello sguardo poetico le cose assumono un altro significato allargano la loro agentività rendendosi molteplici non c'è solo più il tetto con i suoi coppi le sue grondaie il suo isolante c'è anche un drago il drago diventa un'estensione del tetto che va considerata e viene fatta partecipare nella promessa di progetto e qui forse si definisce la soglia o come dice Aymaro la finestra tra interiorità e mondo esterno su questa soglia confluiscono due forme diverse dell'azione l'immaginazione che gli architetti condividono con gli artisti e la proiezione che gli architetti condividono con gli strateghi nulla di nuovo il tema di questa doppia azione o meglio di questa doppia vista è affrontato già da Leopardi in un celebre passo dello Zibaldone all'uomo sensibile e immaginoso che viva come io sono vissuto gran tempo sentendo di continuo ed immaginando il mondo e gli oggetti sono in un certo modo doppi egli vedrà con gli occhi una torre una campagna udirà con gli orecchi un suono di campana e nel tempo stesso con l'immaginazione vedrà un'altra torre un'altra campagna udirà un altro suono in questo secondo genere di oggetti sta tutto il bello e il piacevole delle cose ecco questo sguardo poetico è quanto possiamo riconoscere di irriducibilmente individuale del soggetto e dell'autore ed è anche quanto ed è anche quanto si intreccia con la vita dell'autore ma anche con la vita di tutti noi perché se proseguiamo da lettura del testo di Leopardi scopriamo che senza quell'estensione delle cose la vita è più triste Leopardi infatti conclude il suo pezzo con un'ammunizione triste è quella vita che non vede non ode non sente se non che gli oggetti semplici quelli soli di cui gli occhi gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione grazie a Imaro di aver immaginato e di aver proiettato con la tua opera hai reso il mondo meno triste e più allegro la festa dell'architettura è la festa del mondo in cui viviamo ed è anche la nostra festa grazie grazie Giovanni per questo tuo intervento adesso direi vuoi prendere il posto lì allora passo la parola a Paolo Mellano toccando un altro luogo vissuto da Imaro la ricerca la scuola e quindi la parola a te grazie grazie a tutti parlare di Imaro Isola coinvolge gran parte della mia vita accademica e professionale ma lasciatemi dire anche affettiva io credo di poter dire che siamo amici non solo colleghi da più di 30 anni le nostre vite le nostre vite si sono incrociate nel 1985 io studente lui professore e poi da allora non si sono più divise in un intreccio di rapporti di lavoro a scuola in studio ma anche oltre mi scuso quindi se inizierò questo intervento con alcuni cenni autobiografici di cui non riesco a fare a meno non è facile per me parlare del mio maestro e al tempo stesso di un grande maestro questa volta con la M maiuscola quello di cui parla Sant'Agostino e che tante volte ci ha ricordato Aymaro stesso maestro che può definirsi tale perché ha saputo allontanarsi dei propri allievi cedendo loro proprio spazio Aymaro è una persona importantissima non solo per la mia esistenza ma per generazioni di studenti e poi di architetti il maestro architetto lo conoscono tutti ce ne ha parlato Marco Filippi sono famosissime le sue opere ad alcune di esse peraltro ho avuto la fortuna e l'onore di dare anch'io il mio contributo ma non è delle opere che io oggi voglio parlare perché lo faranno altri oggi invece vorrei porre l'accento sulla scuola e sul modo di Aymaro di interpretare l'insegnamento ho già detto che a scuola ci siamo conosciuti 1985 terzo anno di architettura al Castello del Valentino al momento di compilare il piano di studi decido di inserire il raggruppamento così si chiamava quello che oggi intendiamo come laboratorio oppure atelier o unità di progetto chiamiamola come vogliamo e così incontro i Maro Isola insieme a Liliana Bazzonella Carlo Gianmarco Riccardo Arigamonti che propongono agli studenti un lavoro sull'area nord a cavallo di Corso Mortara intorno alle aree della Texid e della Mishlan la prima osservazione che vorrei fare è proprio sul tipo didattico e pedagogico del laboratorio multidisciplinare una modalità di insegnamento che allora era innovativa eravamo in tanti nell'aula ma per Aymaro il numero di studenti non è mai stato un problema anzi al contrario sia lui che Roberto Gabetti hanno sempre sostenuto la necessità di una massa di architetti purché bravi competenti e capaci i temi di progetto coinvolgevano sempre casi ordinari di vita quotidiana perché a scuola bisogna imparare a progettare case luoghi e paesaggi in cui si possa vivere bene con piacere abitare poeticamente e con merito diceva Giovanni poco fa non sono mai state esposte metodologie ricette o formule magiche ogni progetto a scuola come nella realtà dello studio ha sempre costituito una storia a sé il laboratorio era una palestra dove l'architettura la si imparava facendo learning by doing che significa pragmaticamente sporcarsi le mani scontrarsi con i temi del progetto cercando una soluzione che soddisfi al tempo stesso le attese del committente ma anche del progettista e soprattutto le esigenze del luogo della città del paesaggio dei suoi abitanti lo dico con un po' di nostalgia perché purtroppo nella nostra scuola di architettura oggi non è più tanto così anche se ultimamente abbiamo cercato di ridare al progetto di architettura al centro della didattica di riportarlo a una sua giusta dimensione quella della ricerca scientifica perché fare progetto significa fare ricerca lo scriveva Roberto Gabetti più di vent'anni fa e vale ancora oggi ma proprio per questo motivo la ricerca e la didattica del progetto non possono prescindere dalla sperimentazione pratica ed è per questo motivo credo che il raggruppamento Isola aveva ottato per la forma dell'atelier multidisciplinare messi di fronte a un reale tema di progettazione gli studenti entravano a contatto con il sito lo misuravano in un qualche senso lo ascoltavano provando di immedesimarsi in coloro che avrebbero poi fruito al progetto che avrebbero abitato quegli spazi una volta trasformati e poi erano sottoposti a un vero e proprio bombardamento di informazioni sui luoghi sulla loro storia sul dibattito in corso a livello politico e urbano sulle attese dell'ipotetico committente sulle possibilità di uso dei materiali sulle tecnologie costruttive il laboratorio durava tutto l'anno e non solo un semestre come accade oggi e in questo modo le riflessioni degli studenti avevano il tempo di maturare di confrontarsi con i docenti delle diverse discipline di essere verificati rispetto alla realtà dei luoghi gli strumenti della rappresentazione non erano evoluti come oggi nessuno usava il CAD né tantomeno sapeva fare i render piuttosto a sonometria o prospettive al tecnigraf ma cosa importante è che ci si allenava al confronto provando a esporre le proprie idee di progetto durante i momenti seminariali di critica e di discussione ogni revisione costituiva un'occasione per smontare e rimontare le idee a diverse scale di elaborazione mai un procedimento a cascata ma sempre un continuo feedback dal generale al particolare per verificare quanto le proposte fossero mature per prospettare di volta in volta nuove soluzioni formali tecnologiche tipologiche strutturali questa impostazione didattica io credo costituiva un fondamentale momento di sintesi fra il momento della formazione e la pratica professionale e rappresentava per gli studenti un'importante occasione di verifica delle nazioni apprese dei propri limiti delle capacità delle aspirazioni e credo che anche per i docenti lo posso affermare oggi a valle anche della mia esperienza pluriannale questa modalità di fare scuola abbia rappresentato un'esperienza singolare molto impegnativa certo ma anche costruttiva addirittura formativa lavorare in questo modo a diretto contatto con gli studenti con le loro teste pensanti ascoltando le loro impressioni dirette sui luoghi i loro discorsi con i compagni ha significato spesso la consapevolezza di quanto per forza soprattutto a caso dello scarto di esperienze di età loro vedono le cose in modo estremamente diverso da come noi le vediamo e le interpretiamo e spesso propongano soluzioni inedite originali fresche a volte spiazzanti voglio dire che da questo confronto traggono giovamento sia i discenti che i docenti indipendentemente dal fatto che il ruolo degli uni per definizione sia subordinato a quello degli altri e ciò non può che far bene alla scuola la quale non ha mai potuto né potrà mai preparare i propri allievi al punto che subito dopo la laurea possono entrare senza problemi nel mondo del lavoro perché non possiamo negare che qualsiasi esperienza professionale proprio in quanto pratica necessita di abilità conoscenze competenti che si possono acquisire solo con l'esercizio la scuola e qui sta la peculiarità principale dell'insegnamento di Aymaro deve dare agli studenti un'impostazione culturale una forma mentis non soltanto tecnica ma anche etica sulla base della quale una volta laureati possono affrontare qualsiasi occasione di progetto una forma mentale che si acquisisce quasi come un'abitudine impratichendosi ad attaccare il problema in un certo modo esaminando i diversi aspetti della questione con attenzione acquisendo capacità di dialogare con i diversi attori e soprattutto dedicando a qualunque progetto e sottolineo qualunque tutto il tempo necessario al proprio sapere con passione già la passione la passione dell'anima se vogliamo citare David Hume o quella passione che è un po' come il coraggio di cui scrive Manzoni se uno non ce l'ha non se la può dare è vero ma è altresì vero che la passione si vede si sente si può toccarla con mano quella passione che cita Remo Bodei un altro riferimento costante dell'elezione degli scritti di Manoisola che non è passione per le teorie ma per le cose per l'architettura materiale e materica delle case del loro radicamento alla terra su cui sorgono dei mattoni o dei blocchi di calcestruzzo con cui sono costruite nel modo in cui finiscono verso il cielo A Imaro Isola con Carlo Gianmarco Liliana Bazzanella e Riccardo Rigamonti riuscivano a far appassionare gli studenti alle discussioni alle diverse occasioni di confronto al disegno e alla preparazione degli elaborati finali questo nostro mestiere ha bisogno di essere svolto da persone appassionate forse è proprio la mancanza di questo sentimento una delle cause del degrado del paesaggio in cui viviamo in parallelo dell'avvilimento della nostra professione la passione di A Imaro per noi è stata contagiosa in quelle aule si diffondeva nell'aria se in una scuola si respira la passione è facile che coloro che la frequentano ne vengano impregnati A Imaro è riuscito a insegnare proprio questo impulso presentandosi in aula sempre con un atteggiamento positivo offrendo lezioni partecipate cercando di comunicare sempre con fervore con slancio con passione appunto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti da quel laboratorio nacque la mia predilezione per il progetto lì nacquero le prime amicizie importanti da lì iniziò la carriera di gran parte dei colleghi che oggi insegnano nei corsi di studi dell'area dell'architettura politecnico di Toino e non soltanto nel settore della composizione architettonica e urbana A Imaro Isola e Roberto Gabetti non hanno mai voluto parlare di scuola intendendo con questo termine l'affiliazione di un gruppo unito dai medesimi principi ideologici o metodologici come invece ad esempio era chiaro a Venisa Milano dove in realtà le scuole erano più di una a Venezia o Roma per citare le scuole di architettura allora più note in Italia a me non interessa affermare o stabilire se in quegli anni anche a Torino si fosse formata una scuola non si può non ammettere però che a seguito di quell'espediente didattico del laboratorio si è formato un gruppo di persone alcuni di loro poi diventati amici la cui formazione comune ha dato origine ad una generazione di architetti e in parte anche di docenti che hanno portato nel mestiere nella pratica professionale nella missione dell'architetto un contributo un saper fare che in qualche modo ha segnato l'ambiente quanto meno torinese ho detto amici l'amicizia e questo l'ultimo spunto su cui vorrei porre l'accento è l'amicizia di cui ha parlato Aimaro nella festa sorpresa o meglio l'inghippo per usare una sua espressione che gli abbiamo organizzato il Valentino lo scorso 24 gennaio per festeggiare insieme i 90 anni le cui immagini stanno scorrendo sullo schermo insieme alle cartoline e gli auguri che i suoi tesisti gli hanno preparato per l'occasione la cosa più importante e che mi ha lieta nella mia vecchiezza ha detto Aimaro in quell'occasione e di aver lasciato degli amici dei filoi come si direbbe in greco non soltanto degli allievi di architettura le cui tante facce vedo qui oggi e mi verrebbe voglia di abbracciarle tutte architettonicamente quella vecchiezza che mi piace pensare sia una crasi fra vecchiai e giovinezza è sintomatica dell'entusiasmo che Aimaro non ha mai lasciato da parte anche nelle difficoltà abbiamo lavorato molto insieme con gli studenti nelle ricerche a scuola in studio abbiamo sempre per i diletti temi complessi articolati le aree vaste le periferie degradate le porzioni di città e di territorio problematiche i casi difficili perché è la città brutta che ha bisogno di progetti ha sempre detto Aimaro un lavoro difficile quindi ma affrontato sempre con la consapevolezza di fare un mestiere bellissimo questo è un grande insegnamento di Aimaro forse il più grande almeno per quanto mi riguarda quello che mi ha aiutato a vivere meglio perché facendo questo mestiere e facendolo non in solitudine ma condividendolo con gli amici con i colleghi con gli studenti dentro l'architettura ci si ritrova oggi a vivere lavorare e perché no anche festeggiare con felicità voglio chiudere allora citando ancora le parole di Aimaro a conclusione di quella festa essere amici non è solo sentirsi bene fra persone care ma un po' o retoricamente noi siamo amici dentro l'architettura che è tutto ciò che nel bene e nel male abbiamo sempre predicato e portato avanti da questo tempo che abbiamo passato insieme sono usciti lavori scritti pensieri e architetture che hanno onorato la città questo castello nel quale ho trascorso la maggior parte della mia vita e questa è la cosa che mi piace di più e che dà anche un motivo a questo essere vissuti per 90 anni vivere è faticoso però devo dire ho vissuto con grande felicità devo ammettere di avere 90 anni felici e questo trabocchetto piacevolissimo inghippo che oggi mi avete fatto sigilla questa felicità architettonica mia e degli amici che mi hanno preceduto o mi hanno seguito in questa lunga e felice vita grazie a Imaro per i tuoi insegnamenti per la tua amicizia per la passione e per la felicità che ci hai saputo trasmettere grazie a tutti per questa festa dell'architettura grazie a tutti 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 grazie a tutti